Ciao a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Allora oggi voglio portarvi una cosa un po' divertente, diciamo così, perché mi sono ispirato a un video di un altro youtuber che seguo da poco, che non so se lo seguite, che è Kokeshi, che insomma è una ragazza che fa altro ovviamente nella vita rispetto al calcio, però aveva preso in prestito da un sito che è in segreto, che sicuramente conoscete, poi vi spiegherò meglio cos'è, e aveva praticamente cercato se stessa in questo sito. Bene, io non farò questo perché non sono nessuno, però è anche vero che ho deciso di cercare in questo sito, che poi vi spiegherò cos'è, Juventus, e cercare quello che si dice sulla Juventus. Dopo la sigla vi spiego di cosa si tratta su questo in segreto e di questi appunto commenti. In segreto è un sito per, se che io volevo dire, per ragazzi di tutta l'età, minorenni, maggiorenni, un po' di tutto, che dicono le cose in modo anonimo, qualsiasi cosa, dal punto di vista, non so, sessuale, affettivo, piuttosto molto sessuale, spesso, in certe cose è meglio lasciarle là, affettivo, qualsiasi cosa che passa tra la testa, che magari non sono in grado, non riescono a esprimere con tutta la sincerità, mettendosi il nome a qualcuno, e le esprimono là in modo da sfogarsi, anche nato un po' per quello. Poi chiaramente nel tempo tutto ciò è degenerato, perché di per sé il concetto era molto utile, perché poteva essere anche un modo per sfogare, poi chiaramente molti lasciano delle cagate, castronerie, o piuttosto che dicono le cose trollando, ecco, la gente. Ho cercato in questo sito, che lo conosco da tantissimi anni, girava già quando ero tardo adolescenza, quindi da qualche anno, diversi anni, credo, e prima ho fatto la battuta del Segaioli, nel senso che comunque ormai è pieno di quella gente là, ma da di questo è anche divertente cercare le opinioni circa la Juventus. Mi cerca Juventus e l'algoritmo di questo sito trova tutti i commenti nel quale è scritto Juventus, o comunque rimanda a fondi argomenti inerenti a Juventus. Ho fatto una selezione di commenti per vedere la gente cosa pensa e scrive in modo anonimo. Partendo da questo ragazzo di 14 anni, mio padre lì era tornato ubriaco alle due e mezza di notte, dopo la partita della Juventus, Cagliari, quindi qualche giorno fa, che era andato a vedere in un bar. Il risultato? Gli hanno rubato il bancomat, ha spiegato un sacco di soldi per poi restare tutto il giorno a letto, la cosa che mi fa più incazzare è che lui dicevi che non devo ubriacarmi o drogarmi, mentre lui fa l'esatto opposto. Poi vedete sotto c'è un tipo di tag, perché, ma perché partita il calcio ubriaco? Allora, ho due cose da dire. Massimo rispetto per tuo padre che evidentemente ha dei problemi di alcolismo, ma ha 14 anni. Il padre che ti dice che devi smettere te di drogarti e ubriacarti, ma guardi che cazzo ha 14 anni. Da i 14 anni iniziavo a bere lo spritz, qualche volta ha avuto un po' di più tra i 14 e 16 anni, perché al tempo ovviamente erano meno ferrei sulle norme, ma tra i ragazzi 14 anni di drogarsi, bella carta di spazio per il padre, ma in effetti il figlio da qualcuno avrà più preso. Andiamo avanti. Ragazzo di 13 anni, allora come l'età media è molto bassa, poi ci sono anche ragazzi oltre i 20, che magari dicono altre cose. Ma se la Juventus veramente avesse la signora vecchietta? Secondo voi chi vince la Champions quest'anno tra Juventus, Roma, Napoli, Inter, Real, Atletico, Barcellona, PSG, Monaco, Tottenham, Madrid City e Loffenheim. 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 Guarda, io pronostico sicuramente non l'Inter, poi il resto si può veramente dire tutto. Ragazza di 13 anni, ah, una ragazza, vediamo, una bambina praticamente. Oggi mia madre ha messo il copriletto da Juventus tra l'attivore sul letto suo e di mio padre. Allora, il copriletto ha due piazze. Lui piuttosto che dormire lì, da milanista qual è, ha preferito dormire sul divano. Sono sbalardita dalla testardagia di mio padre. No, ha ragione, parliamoci chiaro, ma ha ragione, cioè, il copriletto, il letto matrimoniale da Juventus col padre milanista, non è problema per il culo, anch'io se fossi sposato, non vorrei il copriletto interista, cioè, parliamoci chiaro. Poi c'è una ragazza di 16 anni, quindi è proprio grandina. Sabato sono andato a scuola con la maglia della Juventus e ho perso una scommessa e un ragazzo, mentre scendeva alle scale, prima mi guarda la maglia, poi guarda la malissima. Le cose sono due. O a ragazza non piace quella cosa lì, o sei un po' bruttina, cioè, non è che, nel senso, cioè, la maglia, a me, sinceramente, se non è una ragazza con la maglia del Napoli, ma è carina, cioè, che abbia la maglia del Napoli, sinceramente, non interessa nulla. Però, può sapere che a quell'età là, insomma, ci sia un certo bullismo in verso come uno si pone, quindi, purtroppo è così. Uomo di 20 anni, perché era Juventus Ruba? Allora, avete visto, ho dei ragazzini, 13, 12 anni, sì, 10 anni, che scrivono delle cose anche così, simpatiche, domande, anche... Poi il ragazzo di 20 anni, che è un uomo, deve farlo tutto, e ovviamente cosa scrive? Perché era Juventus Ruba? Juventus l'altra. Quello che, questo qua, per quanto non lo possano anche divertirsi, è che, per quanto la Juventus sia odiata, o poco amatta, ma credo che dopo una certa età, insomma, uno potrebbe perlomeno fare un ragionamento intelligente, e non andare in un sito anonimo, scrivere perché la Juventus Ruba. Ecco, credo che quindi, a 20 anni, effettivamente, gli antichi juventini stessi, sono tutti adulti, ed è problema proprio questo, che le nuove generazioni, vengono in qualche modo, come dire, influenzate da chi è più grande di loro. E poi, troviamo episodi anche di bullismo stesso, che potrebbe esserlo perché porta una mano, in Italia, perché ci sono ragazzi di 20 anni, che è un uomo, che scrivono queste cose qua. Perché la Juventus Ruba? Cioè, è una domanda da farsi da 20 anni, onestamente, parlando, ragazzi di 13 anni, perché non so perché è tutto così colorato questo? Ieri stavo con un amico in giro per il mio paese, attriggia, è un bel dottore, siamo passati davanti allo Juventus Club, siamo entrambi juventini, e mi hanno urlato, forza Juve, Napoli schifo, e un vecchio, che era lì, tutto contento, ha detto, bravi ragazzi, così si fa, è il vecchio che insegna proprio le cose, in buone maniere. Ci sono stati a ridere per mezz'ora, mezz'ora a ridere, ah, che ridere, poi siamo passati davanti all'Inter Club, urlando, 11 maggio 2001, e abbiamo sentito uno dirci, andate a fare in culo, e ha avuto ragione, allora, parliamo di chiare, intanto, 11 maggio 2001, perché è la data del derby, Inter 1000, in cui l'Inter perse 6-0, l'ho scoperto, grazie al nostro, la chat del processo, grazie anche a Dani, che ci ha deliziato di un coro, quindi per questo, chiedete a Dani, che vi farà sicuramente il coro, anche di quello, poi chiaramente, se mi mandano a fa un culo, perché mi fate un coro di sfruttato, contro l'Inter, in una partita che io ve la non c'era, cioè, ve la meritate, onestamente parlando, ma detto questo, 13 anni, posso anche capirlo, ragazzo di 15, vorrei tra posto, Bernardeschi, dello Juventus, alla parte tra pocarina, è fucciosa, fa il quale guance, io vi giuro che, pensavo, ha detto ragazzo di 15 anni, invece no, è un ragazzo, è omosessuale, comunque, Bernardeschi, insomma, non so, non so quale sponda sia, quindi, però, insomma, ognuno ha i suoi gusti, se è chiaro, però, onesto, onesto, ma non devi, non devi in nessun modo, insomma, come dire, imbarazzarti per quello che è, dillo tranquillamente, io parlo così quotidianamente, della Leotta, quindi, è normale, andiamo avanti, uomo 19, vediamo questa cosa dice, sono partito con mio padre da Torino, per vedere la Juventus a Frosinone, risultato, ci siamo fessi per Frosinone, ho domandato un signore, ma parla strada, non si capisce, non cazzo, siamo finiti, il navigatore non ci aiuta, comunque, Frosinone, in base a dove abiti, è giù, però se te vai su, e rivi in Svizzera, la non parla in italiano, quindi, secondo me, avete proprio verso la direzione dell'autostrada, in caso, secondo me, te e tu d'opà, insieme fate mezzo cervello, se tanto, perché perde, arrivare a Frosinone, non capire niente, perché parla strano, come si fosse una sola persona, Frosinone, e perdersi, quando magari, basta solo digitare su World Maps, stadio, il nome del stadio Frosinone, a 19 anni, e col padre che ne aveva 50, una domandina me la farei, andiamo avanti, sfogo tra l'altro, quello è sicuramente Sick Wolf, lo so. Uomo 19 anni, ieri mi stavano fregando il portafoglio, io me ne sono accorto, mi sono girato, e c'era un ragazzo con la maniera di Juventus, che buttuto, vai a cagare, va. Bravo, bravo, 92 minuti di applausi. Ragazzo di 15, finalmente ho trovato la spiegazione del perché la Juventus ti fa anche al sud, nel 1997, nel 1997, erano arrivati un gruppo di operai meridionali della fabbrica, della fila Tatori, no, e lì me ne erano chiamati Juventeru, Giovanni Terroni, Terroni, ha abbreviato Juventù, quindi si erano presi a far che i torinesi non li lasciavano giocare a calcio, con loro, e infine questo operario fondava una Juventù Juventus. High Story of the... quella da balà, scarso ovviamente, a calcio nessuno ha mai rubato, e lo dico a diviso di Napoli. Ah, ok, quindi questo sta trollando, ma l'ha detto, onesto, ha tirato fuori una bella storiella, ecco, interessante, magari quello non può anche crederci, comunque, ma è molto più sveglia di altri. Ragazza di 16 anni, solo io voglio un ragazzo che giochi sempre con me a Fortnite, che tipi Juventus, che ama Harry Potter, che guarda i partiti di calcio, con me che odia il Napoli e il Milan, sto solo sognando? No, perché Dani Orgoglio Gobbo, è perfettamente questa persona qua, ama, gioca a Fortnite, come cazzo, tipo a Juventus, ama Harry Potter, perché mi pare che gli piace molto la Watson, quindi non potrebbe fargli anni, guarda il predicaccio con te sicuramente, se vuoi far solo quello, Dani, Dani, e ti odia il Napoli e il Milan, non si direbbe mai così, quindi, 16 anni, fra due anni, ripassa, che perfetto, perché adesso sono piccolina, aspetta due anni, giusto per non avere problemi a Dani, poi ti do il numero qui sotto. Buono di 19 anni, qua siamo il 18 di agosto, quindi era la prima di campionato, credo, se Juventus perde, mi taglio il pisello, ti darò un annuncio, l'abbiamo vinto, e non perso, e quindi, presto, te dovrai far la fine del signore di Napoli, dei gol di Guainda. Se ma sei Guainda, va alla Juve, e segna più di 15 gol, c'è mio nipote, il mio ereto, questo qui, mi taglio l'uccello. Sono di Napoli, e tifo Juventus, ma non ho paura di essere me nato per questo, i tre che hanno provato a picchiarmi, quando l'hanno scoperto, li ho fatti, cioè li ho fatti tra loro, casa, con due occhi neri, ma si può essere venuti presi solo per il calcio, imbecilli. Massima stima, cioè io, posso anche l'applausi, quando vieni bullizzato, e mandi i tuoi bulli, sì, i tuoi bulli, i tuoi picchiatori, a casa con due occhi neri, quindi li picchi te, siccome è massima stima, perché è legittima difesa, rispetto a una condizione, quella del calcio, che non deve essere in nessun modo, essere motivo di violenza, come nessuna cosa, ma il calcio è meno che meno, perché è una cosa, una passione, un divertimento, e se siamo andati a casa, con la giusta dose di botte, senza fare cato da podano, chiaramente, questi due ragazzini, che vogliono fare i bulli, secondo me, è un bellissimo dimostrazione, di come il bullismo, si può anche combattere, non sempre ovviamente, con i termini pacifici, perché da volte, certa gente, le buone maniere, non le capisce, quindi, ma gli estremi, gli estremi, gli estremi, le rimedie, anche se, chiaramente basta, perché chiaramente, se i cianni, poi ti trovi impilato, su un pilone, no, vabbè, un giocatore di calcio, arriva a guadagnare 30 milioni l'anno, poi vedi, c'erano coppie, che possono sposarsi, o aprire una casa, ancora peggio, che muore di fame, ma in che cazzo di mondo viviamo, io amo il calcio, amore di vento, io sono Ronaldo, e il calcio è il più forte del mondo, ma no 30 milioni l'anno, io facendo il barista, manco a 100 anni, arrivo a 30 milioni, eh, fate una domanda, cioè voglio dire, ragazzi, questo è un discorso, che vale per tutti, non l'ha raccomandato, è fortissimo, in un mercato come quello calcistico, in cui sono quei soldi là, lui merita quei soldi, gli spiace dire che, né io né te, in tutta la nostra vita, per quante le vostre ambizioni, potrebbero essere alte, non avevamo neil doti, né forse neanche le ambizioni stesse, per raggiungere certi livelli, e per crearsi da soli, hai fatto una scelta, di fare il barista, che sicuramente non ti permetterà mai, di diventare milionario, come la mia scelta, che farò la lavorativa in futuro, non mi permetterà sicuramente, di diventare milionario, però di sicuro non vado, in qualche modo, a rosicare, perché gli altri guardano in più, gli altri, nel momento in cui, fanno e meritano, quello che stanno prendendo, se è per merito, è giustissimo così, se è per raccomandazione, per fini poco, a livello etico, allora chiaramente, no, tipo, non so, se te guadani milioni, offendendo la tua stessa dignità, il tuo corpo, perché dai il culo, la destra manca, quello, ovviamente, non è fare tanti soldi, in modo corretto, cioè, lo li fai, però, insomma, non è che sia dignitoso, ma se lo fai, con il duro lavoro, il sudore, quello che Ronaldo ha fatto, in questi 15 anni, 20 anni, in carriera, chiaramente, se li meritati, dato a questo punto, per merito suo, e non per raccomandazione, quindi, secondo me, questo è un discorso, che non ha senso, un po', qualunquista, se diciamo, eh, insomma, ecco, non è, ragazzi, 14 anni, ma perché gli becco, tutti i banti, io, quelli, il mio ragazzo, mi ha scopato, mi ha scopato, che significa, che voleva commentare con te, l'assetto societario del Juventus, ma che cazzo di domande, intanto, e il fine finisce qui, allora, ho trovato questi 16 commenti, tra l'altro, voi mi sono sfuggiti, nel senso, voi sfuggiti, sul primo di Bernardeschi, pensavo fosse una ragazza, che scriveva voglio, però in realtà, un ragazzo, va bene, ok, quest'ultimo non ho capito niente, un ragazzo, mia, è un ragazzo, ma sono tutti ipersessualizzati, questi ragazzini, come a 14 anni, io stavamo ancora con gli action me, ragazzi, ma comunque, tra droga, ubriachezza, molesta, tendenze sessuali, poco descrivibili, ma a 14 anni, ragazzi, a vero ragazzi, queste sono cose, le nuove generazioni, vanno avanti, qua a 26 anni, sembra che sia nato, milioni anni fa, e dopo questo ragazzo, spero che vi sia piaciuto, potrei riproporlo, o meglio, potrei riproporre magari, di andare a sondare, certe cose, sulla Juventus, come viene percepita, in altri siti, in cui magari, simili a questo, comunque altri siti, o magari in giro per YouTube, un po' come facciamo, con i commenti, gli altri juventini, e così via, ma sarebbe interessante, anche portare avanti, questo tipo di video, fatti così, in modo che, ci si diverte un po' tutti, ci si fa due risate, ci si parla anche, di qualche tematica, importante, come quella, di non ha delle milioni di euro, che prende, gli altri juventinismo, insomma, ci sono tante cose, di cui discutere, sempre con un po' di ironia, senza, senza offesa a nessuno, chiaramente, sia chiaro, rispetto, anzi, l'opinione di tutti, e le politizioni, e la natura di tutti, e, quindi, ho preso a caso, senza, veramente, censura a nulla, tranne quei commenti, che erano banali, che sono cose, magari, che erano già ripetuti nel tempo, però che vi sia piaciuto, qui sotto, i vostri commenti, su, commentando, quello che avete, sono sedici, sono sedici, questi segreti, anonimi, forse, come sempre, e alla prossima, ciao!